Ciao ragù, benvenuti in questo nuovo video più schifosissimo dell'altro niente ragazzi, praticamente abbiamo comprato le caramelle gommose qua le caramelle gommose qua, le caramelle gommose qua, le caramelle gommose, le caramelle gommose facciamo un caramelle gommose, ora faremo una sfida, praticamente ci metteremo a così qua, facciamo così, ma tu ti immagini a così? il gioco funziona così, prendiamo questi cosi e niente, una volta ce li mettiamo in bocca, comincio prima io e niente, chi ne riesce a mettere di più in bocca, vince diciamo, che vince non si sa non si sa, va bene, allora comincio io un chapi bunny, due chapi bunny, tre chapi bunny quattro chapi bunny cinque chapi bunny sei chapi bunny una volta, credo il gioco sette chapi bunny otto chapi bunny cinque chapi bunny No, la cagli bambini. Ciao. Voi spogli bambini. Voi spogli bambini. Un... 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 quando sono arrivato? ragazzi sono arrivato a 13 sciapipanni ma vediamoci tutti sulla contativa e tu mani? e tu mani? come sono mani? un sciapipanni due sciapipanni vengono e ne mastica un sciapipanni tre sciapipanni quattro sciapipanni cinque sciapipanni sei sciapipanni sei sciapipanni f b non ti è mai va non ti è l'uso, non ti è l'uso non ti è l'uso, non ti è l'uso ma mi ricordi sì non ti è l'uso non è scaldi non è scaldi chi ha detto 10 12 scaldi come si come si è brutto 11 scaldi 11 scaldi 12 scaldi 12 scaldi 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 15 15 16 16 4 giorni, spero che questo video vi sia piaciuto, vedete il lucchetto un po' con mucoso, se avete qualche altra idea scrivete sotto il video mi raccomando, sempre cose riguardanti queste schifanzerie, immaginate un piaccio, commentate e continuate, se volete però, sempre se volete, non comando lì, e ragazzi vi mandiamo un grosso bacio e un già vi balli balli boso, ciao!